La residenza permette ai cittadini di accedere a una lunga serie di servizi Che senza la residenza sia un po' meno cittadini E rispetto a questo noi non transigiamo Ci sono degli aspetti tecnici Questo è quello che diciamo dal punto di vista politico Ci sono degli aspetti tecnici che facciamo valutare agli uffici Perché è il loro mestiere Allora non riesco a dire perché non riesci a iscriverla quando abita O comunque a domicilio Se in una casa occupata non la iscrivono Vedi quella via lì Ma quella fictizia sì però Non esiste una via fictizia Bisogna dimostrare che quella persona è senza fissa dimora È senza fissa dimora perché Se abiti in una casa del comune abusiva Non è senza fissa dimora L'occupante E questo è il discrimine che stiamo cercando di far rileggere agli uffici Per trovare una linea perseguibile No perché pare brutta detta così Perché se sei disperatissimo Non ti sei auto-organizzato Allora puoi avere qualche diritto Se invece ti sei auto-organizzato Se questa famiglia viene sfartata e buttata per strada E vive su una panchina L'amministrazione e il comune di Bergamo Dà la residenza perché va bene Se invece una famiglia decide Per questioni anche comprensibili E che noi chiamiamo di dignità Di andare a prendersi una casa Che da anni e anni è lasciata vuota È lasciata marcire In quel caso lì Se una famiglia è scelta delle soluzioni Che le istituzioni in questo caso non danno La residenza non viene data perché c'è l'articolo 5 del piano casa Cioè la Roma non regge Che senza residenza non possono accedere al diritto al lavoro Al diritto alla sanità pubblica Al diritto all'istituzione pubblica Questa è una situazione che avanti da un anno Sono famiglie con bambini minori Bambini che stanno per nascere A cui sono state staccate le dente Quindi l'emetricità e l'acqua E su questa cosa se non ci mobilitiamo Noi come abitanti Cerchiamo di separare Non si muove nulla Se riusciamo anche nella discussione Poi noi siamo molto disponibili a parlare Lo sapete Cerchiamo di separare quello che è Il presidio della residenza fittizia Che come vi ho detto Viene utilizzato dagli uffici Tutte le volte che serve Dalla richiesta Che secondo me è un po' forzata Di residenza in un alloggio occupato In realtà non è così forzata Non è di quello che ci stiamo parlando Non è così forzata C'è un'altra città Che l'occupazione per necessità È stata riconosciuta E con quella è stata data residenza Dopodiché non siamo ciechi Sappiamo benissimo Che con l'articolo 5 Che è palesemente incostituzionale Hai detto pure anche te È fatto proprio perché Di fronte a uno stato Che non è in grado di rispondere A questa ondata Non fa scelte diverse Quindi non fa moratorie Che blocchi A meno tempo e... Va bene Va bene No se sbaglio Correggimi No dimmi Dimmi cosa puoi fare Un sfrattato per una società incolpevole Che non si può permettere Un'altra casa oggi Sì la scelta sbagliata È occupare una casa Perché quale altre scelte ci sono Sì Andare a smembrare Tornare al proprio paese No non sono D'accordo Ho detto questo Io mi prendo anche l'impegno Di rivederci tra Martedì dopo Pasqua Magari fare anche un incontro con i dirigenti Perché poi questa è una cosa esclusivamente tecnica Cioè quando vi arrivano i dimieghi Io non li vedo neanche Sì però c'è dietro una volontà politica Nel non dare la residenza A chi si risolve dei problemi da solo Perché ritornano sullo stesso punto Perché comunque le istituzioni Eh beh c'è dietro anche una volontà di rispetto Delle persone che stanno aspettando un immobile Che non occupano case Sì ma stiamo parlando Che cercano di Sì ma stiamo parlando di case Di averla nel mondo Che sono lasciate abbandonate Da un sacco di anni Che non sarebbero abitabili E che probabilmente rientranno Anche in un piano di svendita Noi oltre alla questione delle residenze Svendita forse Oltre alla questione delle residenze Accogliamo l'incontro per martedì prossimo Sì abbiamo detto E magari facciamo in modo Che ci possano essere anche Il dirigente dello stato civile della Nagrafe E la responsabile dei servizi demografici Dopodiché vorremmo anche parlare col sindaco Perché la questione degli sfratti Sul territorio bergamasco è un'emergenza È un'emergenza da parecchi anni Guardate il sindaco riceve Il sindaco può fare una moratoria Ed è il caso che la faccia E quindi la questione della moratoria Poi non è altrettanto importante Quanto quella delle residenze E ne approfitteremo martedì Per ribadire questa cosa Dopodiché Dopodiché all'interno del piano casa C'è anche un famigerato articolo 3 Che prevede una svendita pesante Del patrimonio pubblico Noi anche su questo Anche abitato Noi su questo punto Vogliamo una presa Di posizione Chiara e netta La parte del sindaco E' un'altra parte del sindaco E' un'altra parte del sindaco